Il nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Amen, Dio e Padre di tutti, per cui noi lo muotiamo, perché Dio è la pace eterna per il nostro fratello. Diciamo prima di tutto, Padre nostro che sei eterno, che santificare il tuo nome, venga il tuo regno, che ha fatto la tua volontà, come in cielo e come in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri debiti, insomma noi rimettiamo in eterno riposo, donna il Signore, prenda lui la luce perfetta insieme ai tuoi santi in eterno Signore, perché tu sei buono. Camerati, saluto! Camerata Roberto Gentile, presente! Camerata Roberto Gentile, presente! Camerata Roberto Gentile, presente! Camerati? E, poso! Camerata Roberto non muore, parole di commemorazione. Roberto è qui con noi, con la sua grande comunità, legata dall'idea, dalla famiglia, frutto di quella grande idea dello storico, dal regno, le sue passioni, i suoi amori, e noi siamo tutti qui con lui, e lui è con noi, e sarà sempre con noi, in ogni momento. Prima, si scherzava, lui qua voleva una festa, non voleva affumerare. E' una festa in cui ci hai messi tutti insieme, e noi con quest'animo lo dobbiamo ricordare, con il suo amico, quell'animo di un uomo che ha saputo tenere uniti i legami in tutto il percorso della sua vita, in tutti gli ambienti, e la gente che gli vuole bene sta qui e tanta, in un posto difficile da trovare per chi non lo conosceva, e siamo venuti tutti perché siamo con lui e lui è con noi. Ecco, questo era Roberto. Qualcuno prima ha fatto una battuta quando ha detto ha saputo tenere legami tutta la sua vita, sì, con chi non ha litigato, ma qua c'è anche chi ha litigato con lui, perché si è sempre fatto volere bere, perché era un uomo forte, ma fondamentalmente buono e generoso, e ci ha insegnato tante cose a tutti noi. E questo è il suo testimone, e questo è il motivo per cui starà sempre con noi, e a ogni nostra bicchierata leverà il calice anche lui con noi. Grazie. 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 Grazie.